Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Siamo qui su Battlefield 4 quest'oggi per fare un gameplay veloce Della modalità che è stata rilasciata oggi proprio Oggi ragazzi E ovviamente è messo di merda anche lo schermo Cazzo non bastava ogni tanto che si mette male la videocamera Ma anche questo cazzo di schermo Comunque sia ragazzi siamo qui online per provare un pochettino Questo Battlefield 4 raga Quindi andiamo su... Allora prima di incominciare ragazzi Ricordiamoci bene Allora Battlefield 4 riprende molto precisamente Battlefield 3 Sembra molto simile a Battlefield 3 Ovviamente è stato migliorato nelle mappe Nella costruzione delle mappe che sembrano molto più realistiche Molto più grandi Forse questa ampiezza di campo Comunque sia la mappa che è molto grande Non è sfruttata al meglio Su una possibile Xbox 360 O su una possibile PS3 Perché? Perché ovviamente questi giochi sono stati studiati Principalmente per le next gen PS4 e Xbox One Dove è possibile far giocare ben 64 giocatori Dove è tutto frenetico lì ragazzi Quindi c'è molta gente È possibile giocare in tante persone Ammazzare molte persone Trovarle da qualsiasi parte Quindi è una cosa molto più bella in confronto a questo Che è limitata se non ricordo male a 32 giocatori Comunque sia ragazzi abbiamo una mappa Che si chiama se non ricordo male Sieg of Shanghai Abbiamo due modalità che sono Dominio e Conquista Ragazzi il gioco è bello Sì mi piace sinceramente Non è il mio genere di gioco preferito Però è adatto a me Proviamo ragazzi Comunque sia Andiamo su Multiplayer Andiamo su Quick Match Andiamo su Conquista ragazzi E partiamo subito Eccoci ragazzi siamo in partita Andiamo con l'assalto ragazzi Allora raga Prima di tutto Utilizzo principalmente questo fucile Che è una specie di AK Se non ricordo male Sì Allora Per avere una mira maggiore Per avere una mira comunque sia migliore Che rimanga molto ferma Stabile Dalla lunga media distanza Io vi consiglio principalmente di utilizzare Il colpo singolo sull'arma In modo che così la mira rimane stabile Rimane molto ferma E riuscite a uccidere subito l'avversario Come potete vedere Le mappe sono veramente grandi Con dei territori molto aperti I territori molto chiudi A seconda di dove ci ritrovate L'ultima volta che ho giocato Abbiamo fatto cadere giù Questo palazzo intero Comunque sia ragazzi E' una cosa strepitosa Veramente le mappe sono fatte Col cuore Io non so che altro dire Sono fatte veramente col cuore Non come fa Call of Duty Black Ops 2 Che come fa la Treyarch O le Infinity Ward Che va a recuperare le mappe vecchie Dei suoi vecchi Call of Duty E questa cosa fa veramente incazzare A meno a tutti quanti Fa veramente incazzare Ovviamente Call of Duty Ha un altro tipo di gioco Più arcade Però veramente a me piace Anche Call of Duty Mi dispiace soprattutto Questa cosa del Mi dispiace questa cosa Che devono ripetere Ovviamente le armi Cazzo Cazzo dai 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 Porca puttana Dopo quanto muori Stronzo Ok automatico ragazzi Adesso vi faccio vedere Un pochettino Ok questo è il nostro compagno Perfetto Allora vi faccio vedere Un pochettino Come si sale sul palazzo Ragazzi Dobbiamo prendere L'elicottero Ma cosa vuoi fare Vuoi prendere un ascensore Zio Allora ragazzi Saliamo su Vedete che è bi occupata Quindi ci mettiamo il colpo singolo Ragazzi Dobbiamo essere veloci E ammazzare subito gli avversari Altrimenti ci spacchettano il culo Siamo arrivati ragazzi Merda Mi stavo già aspettando Sto stronzo Cazzo Vabbè non importa Ragazzi Allora ripartiamo subito Come volete vedere Questo è un palazzo Si può usare l'ascensore Si può salire sui palazzi Questo è il principale di questa mappa Ed è veramente una figata Ovviamente Si va in tilt Questo gioco Non so perché Mi rimane bloccato Ma non c'è niente Allora Non c'è un cazzo Ci è stata conquistata ragazzi Dobbiamo andare su B e su A Prima di tutto Andiamo su A Che questo è il palazzo più alto È quello che ci interessa Maggiormente da conquistare Per poter vincere la partita Come sapete Ovviamente I giochi di Di Butterfish Come sappiamo È una guerra Simula una guerra È molto simile A una guerra Le palazzo durano Veramente tanto Almeno 20 30 minuti Io ovviamente cercherò di Farvi vedere Tutto il più Il prima possibile Per farvi vedere Tutta quanta la mappa Cazzo Andiamo Dai 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 Non ci credo è stupido Sto qua Bello Ma io non ho capito Con cosa non ti ho preso Vorrei capire Cioè c'è il vetro di proiettile Cioè dimmelo Ma no non lo capisco Che cazzo Vediamo se questa volta Mi ammazzano Ragazzi secondo voi Mi ammazzano stavolta Ce la farò sopra a vivere Ragazzi Dai che ce la faccio Sopra a vivere Ragazzi Dai che ce la faccio Dai che ce la faccio Dai che ce la faccio Ma com'è Che cazzo mi hai sparato Cioè ragazzi Sembrava che Gli spari di GTA 5 Quando metti i trucchi Ci sono i proiettili esplosivi Non lo so Cioè mi hanno aperto in due Ma che cazzata è Porca puttana Porca puttana Dai zio Dai zio Vai zio Vai 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 Vaffanculo Stronzo Ma vaffanculo Anche tu Testa di cazzo Grande Lo stiamo conquistando Noi questo Perimetro Ragazzi Dai Ma grande Ragazzi Un solo Un solo Un per cento Di 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 cosa Di Di vita Porca puttana Cicliamo di sopravvivere 22 che stiamo recuperando Ragazzi Perfetto Grazie C'è ciò Gra Minca Sei gentilissimo Porca puttana Grazie Ma no ma ragazzi Mi ha dato un pochettino Di energia Allo zio Quindi mi ha salvato Il culo Uh Ok Ci sono avversari Dall'altra parte No Andiamo qui Vale C'è nessuno ragazzi Quindi mettiamoci L'automatico Ragazzi Questa cosa è Uh C'è qualcuno qui ragazzi Pronti Ah Non vedo nessuno Quindi ragazzi Questo è il palazzo Andiamo sua ragazzi Vi faccio vedere Come si fa sua Volevo far vedere Anche questo Ah Sono tutti sul tetto Porca puttana No Dai 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 No 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 Dai No Voglio salire Mi fa salire ragazzi Vabbè Allora Ci abbiamo conquistata ragazzi Dobbiamo andare di nuovo su B Salire su Sul tetto Lanciarci col paracadute Verso A In modo che così Faccio vedere Che figata è Usare il paracadute ragazzi C'è È epico E poi ovviamente Posso dire Devo dire un'altra Cosa ragazzi Cioè La EA ci offre sempre Le demo Dei giochi Io vorrei che anche Call of Duty Ogni tanto Ammette se le demo Per poterci far vedere Esempio Call of Duty Ghost in anticipo Almeno Almeno Tre settimane Per vedere un pochettino La beta Cioè siamo obbligati Altrimenti a comprare Il gioco Per poter Vedere Per vedere Se è soddisfacente Il gioco o meno Quindi siamo sempre Obbligati a spendere 70 euro E questa cosa A me non va Tanto bene Ragazzi Poi ovviamente Io comprerò Sia i giochi Per Video Comperò Call of Duty Ghost Battlefield 4 Sia per 360 Sia per Xbox One Perché devo vedere Un pochettino Come funzionano Cazzo Non mi danno il tempo Di salire Cazzo Veramente Questa cosa Mi fa nervosire Allora Se mi dai L'immagine Per piacere Non mi dai L'immagine Ragazzi Vediamo Nero Cazzo Porta puttana Dai Oh Vai Vai zio Vai zio Faffanculo Testa di cazzo Così impari Ad attaccare Il mio compagno Ok Oh L'aricottero Di merda Eh Cos'è che hai detto Zio Ok L'ho ucciso Perfettamente Grande Adesso ragazzi Sapete cosa facciamo Come vi ho detto Prima Facciamo il giochino Ma sì Come cazzo attraversiamo Vorrei capire Ragazzi Vorrei capire Come cazzo attraversiamo Perché è impossibile Qui Ok Stanno a splendor Bombe da ogni parte Ragazzi Non si capisce un cazzo Ok Noi scendiamo da qui Valci 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 Grande Ah Stata conquistata Andiamo dall'altra parte Ragazzi Vaffanculo Andiamo Già uccisi Perfetto Uh 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 Dai Grande Perfetto Andiamo verso c Ragazzi Buttiamoci Yeah Mamma mia Ragazzi Ecco qui come si fa Si tira Subito Il paracadute Saremo suddetto Saremo suddetto No Non ce l'ho fatta Ragazzi No Aia Cazzo Guarda qui raga Uh Grande Uh Ole Uh Cos'è sto sparo Minchia Trent'anni per ammazzare un avversario Porca tutta Allora Dai Stiamo vedendo Che c'è Cos'è che hai detto Zio Non ti ho capito bene E perché ti sull'armetta Così come un coglione Si capisce un cazzo Dovremmo essere Dei cinesi Se non sbaglio Dovremmo Essere cinesi Sì Infatti siamo cinesi Ragazzi Siamo la repubblica Cinese Eh Repubblica Come che si chiama Dittature Allora Scendiamo giù ragazzi Vediamo se spogliano i muri Bam Niente ragazzi Un muro di ferro Apriamo con questo Volevo vedere se si rompono Perfetto Ok Non si rompono Sempre Oh Non ci fa passare Allora ragazzi Abbiamo preso C Abbiamo preso B Ci manca da prendere A Cioè prima Eba A era nostra Adesso A non è più nostra Porca troia Dai Dai Grande Come si fate Oh Ragazzi avete visto Va vabbè Ovviamente Io so soltanto So soltanto Dire una cosa Ragazzi Posso dire Soltanto una cosa Che Questi cazzo Di bombe Che siano Tipo Vai Assolutamente Mi lancio ragazzi Le bombe Il lanciagranate Il lanciapuffi Come volete chiamarlo voi Lanciano come cazzo vogliono le granate Perché alla fine Non vanno dove dico io Cioè io le metto Le calibro perfettamente Per farli raggiungere Una certa quota E poi scendere Perché Devono fiare Androsso all'avversario Giustamente invece Non seguono quello che dico io Grande E va bene così ragazzi Va sempre bene così Ovviamente qui Ci inchiniamo Cioè A queste cose Veramente a me piacciono molto Questa cosa qui ragazzi Cioè Lavori sempre Dove stai mettendo la mano Scusa Dove stai mettendo la mano Ah ragazzi Poi questo è ancora più bello Qu'è successo? No ragazzi Avete visto cosa è successo? È cresciato tutto Non so perché Non so perché Si è cresciato tutto Ok perfetto Vabbè Purtroppo avete visto Questo pezzettino Avete visto più o meno Tutta la mappa ragazzi Quella è Questa è la mappa in generale La più grande Cioè forse è una delle più grandi Poi non so ovviamente Perché Il gioco uscirà Se non sbaglio A fine ottobre Quindi lo vedremo A fine ottobre Questa è Siege of Shanghai E boh E sinceramente La beta mi sta convincendo È molto bello Come gioco Questa poi Questa specie di mira assistita Quando siete vicini agli avversari È veramente comoda È molto utile Secondo me Hanno cambiato un pochettino Gli spari Come ammazzi gli avversari Perché ci vuole un pochettino Meno Per ammazzare gli avversari Però sempre La loro vita è lunghissima E questa cosa A mio parere Rovina molto il gioco Perché su Call of Duty Sono abituato a sparare 3-4 colpi Massimo E muore Che dire ragazzi Sicuramente Sì Non è male come gioco Quindi Quando uscirà Ovviamente Battlefield 4 completo Vi farò una recensione Vi farò un gameplay Ve lo farò vedere Totalmente Su ogni aspetto Per vedere Se è migliorato O meno Dalla beta E ovviamente Siete Siete Voi a scegliere Se comprarlo subito Al lancio O magari Vedervi qualche gameplay Non solo Magari mio Ma di qualche Lato di youtubers Che vi fa vedere Battlefield 4 Completo Con tutto Quello che ci deve essere Necessario Per poter giocare E che dire ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Iscrivetevi Commentate Mettete mi piace Se ovviamente Avete piaciuto il mio video E d'accordo Una volta è tutto Ci vediamo alla prossima Ciao raga